Ciao, mi chiamo Camilla Scaioli e sono la fondatrice di Nostalgia, un brand di accessori femminili. L'idea di Nostalgia era dentro di me probabilmente ancora prima che io me ne accorgessi, nel senso che ho sempre desiderato realizzare qualcosa di mio da poter condividere, ma non sapevo né quando lo avrei fatto né in che modalità. Questa quarantena mi ha dato il tempo per mettere a fuoco questo mio desiderio e per capire come realizzarlo e come comunicarlo. La nostalgia è un sentimento che ho sempre sentito mio e che ha sempre fatto parte di me. Personalmente non lo reputo un sentimento negativo o triste, anzi, è un'emozione, una sensazione legata ad un ricordo del passato felice. E ho deciso di chiamare il brand Nostalgia proprio perché gli accessori che realizziamo mi fanno tornare indietro a questi ricordi. Io ho un piccolo problema con gli accessori, nel senso che tendo ad affezionarmi agli oggetti. E gli accessori di Nostalgia sono proprio pensati per creare empatia con la donna che li indossa. Quindi sono rivolti sicuramente ad un pubblico dal gusto femminile e romantico, dalla giovane ragazza alla donna più matura, madre o lavoratrice, che ha voglia di regalarsi un accessorio unico, diverso dal solito, realizzato a mano e con amore.